Siamo tornati indietro di più di 50 anni in occasione dell'anniversario della morte di Monsignor Cesarano e con il direttore di Padre Pio TV Stefano Campanella che è ben informato, insomma ci può far vedere un quadro della situazione completa perché riguarda non soltanto la storia di questa diocesi ma anche il rapporto che questo vescovo ha avuto con Padre Pio, insomma un po' velocemente però c'è tanto da approfondire e per questo ci sono anche i libri. Allora la diocesi viveva un momento difficoltoso, tante erano le emergenze, le urgenze pastorali, periodo in cui anche la chiesa tra virgolette era corrotta e quindi il segno è anche più visibile a questo punto di quel che ha fatto Monsignor Cesarano. Sì, in tanti momenti ci sono uomini che conquistano il potere in tutte le istituzioni, chiesa compresa, che talvolta si rivelano indegni. Grazie a Dio però la durata del potere o del ministero a seconda dell'istituzione di cui parliamo è limitata e poi il Signore manda dei pastori illuminati e Cesarano è sicuramente stato uno di questi per riedificare laddove in passato c'è stato diciamo sbandamento, terremoto, distruzione o semplicemente qualche piccola crepa. Monsignor Domenico D'Ambrosio, vescovo emerito di Lecce, lo ha conosciuto Monsignor Cesarano come dicevamo anche prima ed è stato accanto a lui fino alla fine, quindi una bella testimonianza anche la sua. In questo momento però ascoltiamo uno stralcio in cui parla della situazione della diocesi di allora. La disastrata situazione della diocesi, era disastrata la situazione della nostra diocesi, necessitava di un vescovo che sapesse accogliere, dialogare, smuovere una situazione di autentico degrado che aveva sul banco degli accusati, indovinate chi? I sacerdoti, litigiosi, divisi, armati contro il loro pastore, che arrivava, che arriva a qualificarli immorali. Poi vi dirò un'altra frase. Che fa suo Monsignor Castori in una relazione che avete fatto qualche anno fa? Un momento terribile, mortificante e umiliante per la storia della nostra Chiesa. Basterebbe leggere gli atti di qualche visita apostolica inviata dalle superiori autorità per renderci conto in quali acque paludose la diocesi tentava di non affogare. Necessitava la figura di un vescovo che unisse alle qualità pastorali che fanno di un sacerdote un vero pastore, con la necessaria conoscenza di uomini e cose, e la percezione delle varie dinamiche che spesso agitano in modo negativo la storia della Chiesa. La provvidenza che tiene in mano i fili e guida la storia della comunità cristiana trova nel segretario della delegazione apostolica e nel vicario generale per i cattolici di rito latino il pastore che dovrà portare sulle sue spalle la pecorella smarrita per riportarla al suo vile, la Chiesa di Manfredonia Vieste. Monsignor Cesarano ci raccontava che, rientro da Costantinopoli, dopo l'ordinazione episcopale, viene ricevuto in udienza dal Papa Pio XI. Vede sulla scrivania del Pontefice una cartella con la scritta «Archidiecesi si pontina, due punti, delenda, cangellare». Entra dunque, Monsignor Cesarano, in un sentiero accidentato che rende pesante e difficile il suo cammino. C'è anche la questione, ce la raccontava lui, perché diceva che aveva la barba. Lui facendo il missionario girava e quindi, vada Pio XI, santità la barba. Ma se la tenga, le dà imponenza, risponde Pio XI. Ecco il perché della barba di Monsignor Cesarano. Una delle prime difficoltà da affrontare è la presenza di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, che dal giugno 1931, io uso un'espressione «segregato in convento». Io dico «era agli arresti domiciliari in convento». Privato di tutte le facoltà di ministero, poteva celebrare la messa nel saccello privato del convento, da solo. Non poteva ricevere, non poteva confessare agli arresti domiciliari. Qual è il risultato di questo dialogo tra Pio XI e Monsignor Cesarano? La visa era nel mese di marzo o aprile, forse. Papa Pio XI ricorda al nuovo arcivescovo le priorità e urgenze che dovranno caratterizzare e animare il suo ministero episcopale, nella chiesa affidata alle cure pastorali sue. Seminario e cura delle vocazioni. I sacerdoti, l'azione cattolica, le parrocchie. Monsignor Cesarano trova una diocesi che in una relazione di un visitatore apostolico, che ho letto, scrive «era una delle diocesi più difficili da governare e delle più malandate non solo per la lontananza dei paesi tra loro, ma anche per l'ignoranza». Sentite, l'invingardaggine è la rilassatezza dei costumi nel credo e nel popolo. E per dir tutto, questo è il visitatore mandato da Roma, per dir tutto per colpa pure, l'ha scritto lui, degli ultimi arcivescovi. I tempi sono cambiati, siamo nel 2020, un anno fa abbiamo accolto Monsignor, anzi padre Franco Moscone, arcivesco dell'attuale diocesi di Manfredonia, VS San Giovanni Rotondo, quindi si è anche ingrandita. L'ingresso è stato meno eclatante perché sicuramente gli anziani lo ricordano Monsignor Cesarano arrivò sul cavallo bianco. Quindi insomma i tempi sono cambiati, però possiamo dire che gli obiettivi sono gli stessi. Sì, sicuramente sì, perché c'è tanta voglia di riedificare, anche perché purtroppo la nostra diocesi ha avuto un periodo in cui non c'è stato il governo diretto quando la malattia ha impedito a Monsignor Michele Castoro di tenere in mano saldamente le redini di questa realtà come avrebbe voluto e come ha fatto nella prima parte del suo ministero. Quindi è stato necessario anche per Monsignor, per padre Franco Moscone, cominciare a ricostruire tenendo presente che c'è stato in precedenza questo periodo per ragioni storiche diverse, volute dal Signore e non dagli uomini, un periodo di diciamo governo limitato della diocesi. E quindi occorre poi ridare energie fresche al lavoro di guida di una realtà come una diocesi e padre Franco peraltro anche avvantaggiato dall'essere vescovo di prima nomina sta mettendo tutto il suo entusiasmo nel ridare splendore a questa diocesi che lo merita anche per ragioni storiche, lo ricordiamo. L'impulso sociale c'è e lo abbiamo intercettato perché non dice mai di noi, microfoni di Padre Pio TV. Di cambiamenti ce ne sono tanti però la direzione rimane, per la Chiesa dovrebbe rimanere la stessa che è quella di questo impegno dentro la società e nell'oggi cercando di aiutare a fermentare in modo positivo. Che cosa mi colpisce con semplicità della figura di Monsignor Cesarano? Il fatto che abbia attraversato un secolo praticamente, il secolo ventesimo, vivendo come vescovo i momenti più salienti, duri della storia d'Italia, del mondo e quindi della sua società, della sua città, della sua diocesi. Il ventennio fascista, almeno nella seconda parte, dal 31 in avanti, quando dopo i patti lateranensi Mussolini diventa il dittatore. Nel primo decennio forse c'era ancora dialettica, ma dopo anche l'opposizione, all'azione cattolica, insomma, ce ne sarebbe da dire. Ovviamente gli anni della guerra e dell'occupazione, la dialettica della ripresa, il concilio ecumenico. Quindi c'è veramente e ci sono gli elementi principali e le esperienze principali della storia del mondo e in particolare della storia europea ed italiana in quei 40 anni. Dunque, contesto completamente differente, però il pensiero, l'impulso sociale, come dicevamo prima, è lo stesso. Condivide il suo operato. Sicuramente sì e sicuramente sarà nella linea di questi grandi pastori che nei secoli ha avuto questa diocesi, anche Monsignor Padre Franco Moscoli. È così. Siamo abituati, ma ci abitueremo. Sì, sì, sì. Allora, oggi è la domenica della parola, la prima istituita da Papa Francesco. Se vogliamo utilizzare o comunque approfittare di questa occasione, sicuramente il dono ce l'ha fatto Dio della sua parola, ma nelle applicazioni concrete, nelle opere concrete, abbiamo degli esempi, insomma, che stanno facendo del loro meglio. Padre Pio è stato uno di questi esempi e sicuramente anche nelle traversie nelle quali è stato coprotagonista anche Monsignor Cesarano, la parola in particolare è la teologia paolina, di cui l'epistolario di Padre Pio è intriso e quindi le lettere di San Paolo sono state per Padre Pio una guida illuminante, soprattutto nel periodo in cui le difficoltà, lui le ha vissute quasi come le catene di cui parla San Paolo. Ma da queste catene Padre Pio, come San Paolo, è stato liberato ed è tornato al suo ministero. Grazie a Cesarano. E noi, grazie a te, lo diciamo, per essere stato qui in fuori programma per questa puntata speciale dedicata a Monsignor Cesarano, facciamo tre tende, se vuoi. Una per te, una per Mosè e una per Elisa. Resta qui con noi. Grazie ancora e buona domenica Stefano. Anche a te e a tutti i nostri telespettatori. Grazie a tutti.